Musica Bella a tutti guaglioni e ben ritrovati nel mio canale Oggi ragazzi ci troviamo di nuovo su Far Cry 4 Dove andremo a continuare la nostra campagna Allora ci accingiamo ad incontrare questa ragazza Che ci proporrà qualcosa da fare Magari un obiettivo e qualcos'altro Non ci ha accolto in modo completamente amichevole E ok ci presenta questa ragazza Vediamo un po' cosa fare Perfetto Ok Perfetto Ah ok Quindi abbiamo questa fattoria Che è stata attaccata da qualche animale selvatico Quindi vediamo un po' Che cosa La tana dei lupi Quindi è stato attaccato da dei lupi E quindi dobbiamo apprestarci ad aiutare questa povera vecchietta Rispetto allo scorso di impriere ragazzi Ok qua ci dicono un po' come guidare Va bene va bene tutto Guidare e sparare Perfetto Ok ragazzi quindi ci apprestiamo ad andare in questo posto 320 metri non sono tanti Mamma mia che bello questo quad Quanto va veloce anche Ok rispetto allo scorso gameplay ragazzi Vi stavo dicendo Mi sono avvicinato un po' più al microfono Perché non si sentiva così tanto E Cos'altro ho fatto? Ho alzato un po' la luminosità del gioco Poiché nelle zone un po' più buie C'era un po' di scarsa luminosità E non si vedeva così tanto bene Ok questa è la vecchietta ragazzi Poverina si è data all'alcolismo Va bene va bene Eh si qua vedo Oh 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 Che cosa vedo qua? Un po' di munizioni Ok ragazzi qua ci sono Si porcellini e quant'altro morti Poverini sono stati attaccati da Da Dai lupi poveretti Si e quindi Noi ci apprestiamo a Ad ucciderli Ok Perfetto perfetto Ok vediamo un po' Una delle battaglie mi ha detto Che il bestiame è stato di nuovo Attaccato dai lupi Perfetto Raggiungi la posizione Tattica Ok perfetto Dobbiamo prendere Due pelli di lupo Tibetano Perfetto Ci andiamo Allora come si facevano A mettere gli archi Ok così Perfetto Dobbiamo scendere di qua Vabbè dai Chi se ne fotte Anche se Si doveva scendere di là Ma è un lupo? No È un rapace Ok perfetto Qua c'è un altro porcellino Morto Oh 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 un lupo Ok allora Ci apprestiamo Ad ucciderlo Bellissimo Questo colpo Bellissimo Questo colpo L'abbiamo soltanto allontanato Perché non credo basti soltanto un colpo Per ammazzarli Hanno la pelle Abbastanza dura Ok perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Due colpi Ben assestati Ragazzi Questo Li abbiamo perforato Probabilmente Un polmone Proprio nella zona del torace Ok perfetto Prima pelle Di lupo Tibetano E Dovremmo raggiungere Quest'altra posizione Io mi ricordo Che in Far Cry 3 Ci fossero degli animali Un po' più forti Dei loro coetanei Avevano Diciamo un po' più di vita Erano più aggressivi Erano Una sorta di boss Oh cazzo Un altro lupo Perfetto Qua Bellissimo Questo colpo Ok perfetto Ci siamo Ci siamo Oh quanti lupi Quanti lupi Dobbiamo stare attenti Allora prendiamo questa pelle veloce Scogliamo l'animale E Dobbiamo difenderci Qui Bellissimo In testa Sul collo Bello 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 Attenzione Attenzione Allora è andato dentro Quindi Vediamo un po' Di non farci beccare Impreparati Eccolo No non era questo Pure l'ho L'ho mancato Perfetto Ci siamo Ci siamo Ok Distruggi Oh Ok era questo qui Che avevamo Avevamo preso Ok ce ne erano due Ok allora Prendiamo queste altre pelli Dovremmo distruggere Barile esplosivo Dovremmo prendere Il barile esplosivo Perfetto E boom Bellissima questa scena Bella 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 Mi vibrato tutto il controller Ragazzi Veramente immersiva Bello Bello Ok ci siamo Quindi Quindi ora Dovremmo Riraggiungere Kanan Quindi questa Vecchietta E ci apprestiamo subito Otti un lupo Lo potevamo mettere anche sotto Vabbè però dispiace Ucciderli così Senza affrontarli Faccia a faccia Ok 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 Allora come vi stavo dicendo L'altra volta ragazzi Vorrei far durare Questi gameplay Dai 15 Ai 20 Minuti Poiché non si riesce a fare molto In un periodo Più Più corto E quindi Magari facciamo un po' più di cose Arricchiamo il gameplay Con qualche missioncina in più Ok ci siamo Vediamo un po' Che cosa c'è da dire Ragazzi Non so se vi taglierò questi spezzoni Cosicché Possa essere un po' più movimentato Il gameplay Vediamo un po' Bene Ok Perfetto Siamo molto gentili Sono ottimi Però le puoi tenere Lei ne ha già abbastanza Ottimo 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 Ben regalo Scusa Tanga cosa? Questo è sulla vita di un santo Quello è sul demone Beh niente male Quello è sulla dea Per essere una vecchietta Che si è data all'alcolismo Non male Ok Ragazzi Nei commenti Ditemi se il volume Del gioco va bene Se lo devo abbassare O alzare Se sentite tutto bene E mi sentite Ok Grazie per l'aiuto Perfetto Perfetto Non c'è di che Allora Continuiamo per La nostra strada Tana dei lupi Missione completata Ok Perfetto Ma Quell'ape Si può guidare No vabbè No vabbè Oh abilità ragazzi Vediamo un po' di abilità No 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 Così Ok abilità 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 Morte dal cielo Salto Salto Per un totale Per un totale di 3 Costo 2 E non ne abbiamo Ok Fai da te Possiamo fare un po' di cose Ma le vediamo Un po' più avanti Nel gioco Ok Spostamento rapido E disponibile Apri sulla mappa E premia Vabbè Noi Ci andiamo Con la nostra Ape Vorrei anche Un po' provarla Sentite che bel rombo Da due tempi Bellissimo Bellissimo Da un Un 50 O un 100 Di cilindrata Mi sembra più Un 100 Un po' più Cupo Il rumore Di un cinquantino Perfetto Allora Dobbiamo Riraggiungere La S Ah pure la radio Beh equipaggiata Al meglio Piano 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 Ok Premiamo per uscire Ok Andiamo verso Questa casa C'è il Segnalino E vediamo Che cosa Ci aspetta Un bordello Un bordello Che cosa è successo Cosa gli è successo È caduto Pagani Non da lettere Ci tocca Sopportare Questa Non sarei proprio L'ho mandato Sulla vecchia torre Su Ai trasmettitori Per cercare Di deviare il segnale Solo che È caduto Da una torre Quindi Mi ricordo bene Che le torri Erano veramente Alte Ed erano Difficili Alcune da scalare Promettimi di non cadere E ci sta Proponendo Questo Lavoro Quindi di andare Sulla Torre Per Vedere un po' Di Riprenderla Ok Allora Ci sono 460 metri Di cammino E noi dovremmo Prendere per forza Un Qualcosa Per Raggiungere Questa posizione Allora È un bel po' Elevata Che cos'è questa qui Ok Io Allora Ragazzi Io sono solo un arco Quindi sono un Cos'è Salta A Con A Per Agganciarti Al cavo Oddio Madonna mia Ragazzi Ma È È veramente Da crepacuore Questa cosa Ok Ma è bello Ci stiamo avvicinando In un modo Assolutamente Molto molto veloce Allora c'è un furgoncino Ma io Prenderei il furgoncino Molto più cazzuto Del quad Ok Guida Automatica Cosa vuol dire Beh no no Non mi piace Non mi piace Guida praticamente lui Ok ragazzi Quindi Andiamo su questa Ma come Ci sono nemici Ma io Ho solo Un arco Come posso fronteggiarli Beh ragazzi Ci sono dei nemici Io dovrei Aiutare Ah ok Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi C'è un nemico Qui sotto Sta correndo Ah Perfetto Ci siamo Ci siamo L'abbiamo abbattuto No 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 Non voglio uscire Ok 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 E vabbè Posso prendere Quell'arma No non mi fa Entrare in quella zona Vabbè perfetto Andiamo prima sulla torre Vediamo un po' Che cosa c'è da fare A ritrovarci È un po' brutto Girare con L'analogico Allora Dovremmo andare Per di qua Vediamo un po' La musica della radia È alquanto Atroce Ok allora Ci siamo fermati In un vicolo cieco Beh io vedo Che ne è caduto Anche un altro Beh poverino Vediamo un po' Che cosa c'è da fare Raccogli Rampino Mmm Si è staccato qualcosa Della torre Grazie a questa liana Potremmo raggiungere No Dovremmo usare Il rampino Ah perfetto Quindi saliamo Ok Ottimo Ci siamo Ci siamo Ci siamo 111 metri All'arrivo Ok allora Per Dovremmo usare Il rampino Raggiungi torre Allora Da dove dovremmo andare Non ho capito Allora Dovremmo usare Questo rampino Che ci hanno dato Ma Come si fa Ok Usa il rampino Perfetto Oh Madonna mia ragazzi Me la sono vista Bruttissima Ci siamo aggrappati Proprio alla fine Bello 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 Questa scena Perfetto Allora Dovremmo Riutilizzare Il rampino Eccolo Lì Ah Di qua Perfetto Eccolo Lì No Perché 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 Ma come Sono morto Come ho fatto A morire Ok ragazzi Ci siamo Di nuovo Vediamo Di non morire Come dei perfetti Stronzi Come prima Ma E di Staccarci Dal rampino In modo Adeguato Ok Allora Riprendiamo Il rampino Che Vedo che È ancora Qui E E saccheggiamo Il nostro Amico Che anche lui Poverino È morto Non so se è caduto Pure lui O È stato attaccato Vedevo prima dei nemici Che c'erano Più a valle Ok va bene Questa La parte facile La superiamo Abbastanza Facilmente Ottimo Saccheggiamo Anche questo nemico Continuiamo Non l'avevo visto Per niente Quel nemico Vabbè Lasciamo perdere Ok Ottimo Oh Ecco qua Perfetto Ci siamo Arrampichiamoci Fino in cima Ok Questa è la torre Ma Oh cazzo È un nemico Non l'avevo mica visto Ragazzi Cazzo 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 Mamma mia Ma come Ma come C'è proprio In una posizione Di merda Ma È stato ucciso Ma come è stato ucciso Da chi è stato ucciso Ok Allora Saccheggiamolo Ragazzi Prendiamo questo fucile D'assalto Mamma mia Ma me lo sono visto Proprio in faccia Ragazzi Ok Allora Facciamo attenzione Perché questi Spuntano come Come fantasmi Ok Torri Quindi abbiamo Queste torri Per dirottare Il segnale Di propaganda Di pagamin Ok Allora Saliamo Su questa Diciamo Specie di Torre La specie C'è cade a pezzi Praticamente Ok Allora Da dove dobbiamo andare Mi ricordo Che erano Un Un Rompicapo Ogni Torre Su Far Cry 3 Per salirci E vedo E vedo Che anche qua Diciamo Non è proprio Agevole Il passaggio Mamma mia Queste cose Mi fanno Veramente Cagare sotto Ok Allora Questo Dovremmo romperlo Dai Forza Ok Rompiti Perfetto Ci siamo Saliamo Anche Su questa Mamma mia Ok Ci siamo Ci siamo Anche aggrappati Al prossimo Obiettivo E Dove dovremmo andare Ora Ah ok Mamma mia Da questa parte Perfetto Non so Che Che fegato Abbia Questo Questo tizio Da salire Su queste torri Così Malconce Ok Scala E Dovremmo essere sopra Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dirottiamo il Segnale Per avere Un po' più di controllo Sulla mappa E Torre liberata Uno di 17 Beh Non sono Tante 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 Quindi Fattoria Di Prabarca Casa Casa del Vecchio Aisha Che Vedo che È attaccato Da dei nemici Rifugio Di Kira E Vediamo Un po' Ok va bene Questa è un po' La mappa Mamma mia Guardate quanto è grande Guardato quanto è grande Ok ci sono un po' Di abilità Che Dovremmo aver Sbloccato Da dove vedo Ah ecco Questi sono i punti I punti che abbiamo Ok 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 Va bene Ok mettiamo bersaglio mobile Puoi mirare e sparare con armi secondarie Mentre ti Sposti Ok fai da te Va bene possiamo fare qualche cosa Ma non abbiamo praticamente Niente per ora Ok allora qua c'è un Piccolo Baule da saccheggiare Qui c'è un altro Abbiamo già 69.000 K Che Non Non so la valuta In questo paese Quale sia Ok questo è il Solito Cavo Per Diciamo Andare Spostarsi un po' Più velocemente Quando si è sulla torre Di qua Non c'è più niente Ok utilizziamo questo Vediamo Che cosa ci offre Il gioco in questa posizione Ok qui prendiamo un po' di munizione Ricarichiamo Saccheggiamo un po' di qua e di là Rifornimenti al sentiero d'oro Perfetto Allora direi di accettare questa missione Fare questa missione E concludere con questo gameplay Che è comunque stato ricco di emozioni Ok perfetto Utilizziamo questo quad Quad E andiamo nella posizione La scelta Andiamo di qua Sento un po' di bordello qua Che cosa sta succedendo Vediamo un po' Ok allora C'è un po' di bordello qui Allora la posizione da raggiungere Un po' più In là E quindi la potremo raggiungere Anche a piedi Vediamo un po' Di non fare tanto bordello Di non farci sentire E cercarla di concludere Questa missione In assoluta tranquillità Ok Quindi che cosa dovremmo fare In questa posizione Leggi Mi cari bevitori Va bene Sali Ah dobbiamo salire Perfetto Che cosa dovremmo fare Dovremmo Cercare di portare a termine Ah ok Allora dovremmo Tenere premuto Per saccheggiare E qui C'è un Uno zaino Ok E successivamente Dovremmo andare In quell'altra posizione Che ha Duecentotrenta Metri Beh Io direi di No vabbè È troppo lontano Il quad Quindi andiamo a piedi Tanto Li facciamo abbastanza Agevolmente Vediamo un po' Chi sta In quella posizione Ragazzi Sento un po' Di cani Di qua Oh Cazzo Mamma mia E questi qua Da dove cazzo Spuntano Mamma mia Mamma mia Abbiamo lo zaino pieno Va bene Allora Non c'ho voglia ora Di stare a creare Uno zaino un po' Più grande Qui ci sono un po' Di Rifornimenti Ok Sono amici Perfetto Andiamo in quell'altra Posizione Prendiamo quest'altro Rifornimento Sento spari Di qua e di là Abbiamo Troppi Troppi Avamposti Diciamo Presi dai nemici Ok Allora Cerchiamo di fare Abbastanza Agevolmente Questa missione Ci accingiamo A Ad arrivare In questa posizione Sono praticamente Dei Ok Ucciso Beh Se no ci attaccano Ragazzi Quindi dobbiamo Per forza Ucciderli Zaino pieno Va bene Come sempre E Tieni Premuto Ah Pure Pure Il denaro Ah ok Il denaro Lo prende Perfetto Dovrebbe stare sopra Forse Non lo so O giù Rimuovi Ah ecco Doviamo rimuovere Un piccolo Un piccolo poster Di propaganda Ok allora Prendiamo anche Questo qui Riportare rapidamente I rifornimenti Ok Perfetto 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 Ora mi muovo Ora mi muovo Tranquillissimo Mamma mia Facciamo le sgommate Anche con i quad Stiamo per cadere Giù A valle Ok Allora Dovremmo andare Giù Mamma mia Questo è vero Enduro Ragazzi Un minuto e dieci Novanta metri Ma dove stiamo andando Mamma mia Stiamo sbattendo A A tutto Ok 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 Ma che cos'è questa Cos'è una grotta Ah ok Sono Diciamo di piccoli bunker Di rifornimenti Perfetto Perfetto Stiamo preparando Un'operazione top secret Spiacente Spiacente Gli ordini Sono ordini Non può entrare nessuno Mmm Piano top secret Beh dovremmo Un po' Investigarci Ok va bene Quindi Oh madonna mia Queste volpe Ma basta Basta Mamma mia Quanto sono aggressive Va bene Quindi Beh ragazzi Io direi di concludere Questo episodio È durato anche più Dal previsto Quindi ragazzi Noi ci vediamo Prestissimo Io vi ricordo Soltanto di lasciare Un pollice in su Qui sotto nel video Per darmi Tanto tanto supporto E alla fine Lasciarne uno È gratuito E ragazzi Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete già fatto Per non perdervi altri video Per restare sempre aggiornati Ragazzi sul mio canale Schiacciate la campanellina Vicino alla voce degli iscritti E vi terrà sempre sempre Aggiornati Mandandovi una piccola E noqua Notifica Sul vostro cellulare Ogni qual volta Che pubblicherò Un video Ho schiacciato Una scimmietta Nel frattempo Ah poverina Poi la rianimiamo Se è morta Va bene Quindi ragazzi Io vi ricordo anche Di seguirmi Sulle varie pagine Facebook e Instagram Che vi lascio sempre Qui sotto in descrizione Fatemi sapere Un Lasciatemi un commento Qui sotto nel video Per farmi Sapere se vi piace Questa serie Se continuarla Di aggiustare qualcosa Magari per quanto riguarda Alzare un po' il volume Del microfono Alzare un po' la luminosità E quant'altro E quindi ragazzi Noi ci vediamo prestissimo Ciao a tutti Da Alien Ciao a tutti